Quando meno ce lo aspettiamo, la vita ci pone davanti ad una sfida per provare il nostro coraggio e la nostra volontà di cambiamento. In quel momento non serve fingere che non stia accadendo nulla o scusarci dicendo che non siamo ancora pronti. Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere.